Benvenuti in un nuovo video, non vi dico benvenuti in una nuova challenge delle 24 ore perché secondo me questo video finisce prima, non lo so perché il calendario è piccolino quindi vediamo un po', l'importante è mangiarlo tutto sono le 18.49 del giorno 20 dicembre, quindi mancano 5 giorni a Natale e vi faccio lo screen e ve lo metto stavolta andiamo ad aprire il calendario Milka che è fatto veramente male cioè a parte che questo quando l'ho comprato aveva giusto qui sopra uno spoiler enorme con tutto quello che c'era all'interno del calendario perciò dico che secondo me in 24 ore, lo finiamo prima delle 24 ore ma vabbè noi iniziamo ad aprire le caselline poi è fatto proprio male, cioè ragazzi spero che non se ne sono... perché vedete qui c'è un po' di aria, speriamo bene allora andiamo con la casellina numero 1 che sta qui c'è ragazzi il fatto proprio male c'è qualcosa? si! vedete raga? è una caramellina vamos niente di che cioccolato Milka anche se non c'è proprio di cioccolato Milka ma è un cioccolato che non mi ricordo cioè guardate la 23 qui è un po' rotta, va bene andiamo con la numero 2 eccola qui sta qui sotto la 2 un'altra caramellina questa è oreo aspetta oddio questo che gusto è? eh vabbè sì ciao no questa niente questa mi dice gusto oreo quindi te lo ripeto cioccolato oreo vediamo si presenta uguale sinceramente tutto lo stesso sapore beh comunque ragazzi adesso è stasera perché io poi stasera devo uscire poi rientro che ho camminato un botto secondo me ce lo finiamo anche tutto questi calendari non fanno più per me ragazzi io non so come gli altri che mi fanno vedere due stronzate mi dispiace io sono fatta così treo ma ci siamo sprecati no raga mi prego vabbè raga ma per 7 euro giustamente molto molto grande raga sarà tutto uguale un po' come la cioccolata della Kinder cioccolata niente di particolare cioccolato andiamo con la 4 eccolo ragazzi non ci facciamo mancare niente uguale c'è ragazzi nel senso però di mettermi il 3 questo il 4 uguale abbiamo il 5 che sta qui aspettate raga facciamo passi da giganti ragazzi è che sta secondo me la stessa passata pure nel 12 sicuro vaniglio vaniglio vai apriamo le altre 2 6 ragazzi caramelle caramelle vorrete ho constatato che tra Kinder e Milka la differenza non c'è apriamo lasetta caramella rosa caramella caramella tutto questo per me lo finirei anche tutto ragazzi facciamo una cosa apriamoci anche la 8 fortunatamente il titolo ancora non ve l'ho detto quale sarà e quindi vediamo un po' ma sicuramente 24 ore no non era un muoio 8 caramella c'è raga io con questo voglio un premio beh raga io mi fermo qui quindi noi ci vediamo più tardi quindi verso mezzanotte stasera quando ritorno e apriamo l'altra casella come al che va lasciamo qualcuna giusta per domani mattina a colazione io sto per far vedere che abbiamo fatto a meno 12 ore scrivo non posso urlare perché stanno tutti dormendo altrimenti mi sentono comunque sono Leo 0022 quindi in mezzanotte quasi in mezza di sabato 21 dicembre colo qui ma io vi faccio lo scritto aspettate ok comunque ho deciso di farlo per 12 ore quindi finiremo questo video domani mattina quasi alle 6 quindi tra un paio di ore io sono appena l'entrata ho fatto più di 15 mila passi raga sto morendo di fame perché nella giornata che è trascorsa io non ho mangiato proprio presa a fare tantissime cose quindi vabbè vediamo un po' andiamo con i 10 andiamo con i 10 questo è un pochino più grande però quello è un po' più doppio questo è più sottile io vengo l'entrata ciao cioccolato bianco e cioccolato stasera numero 11 e questa secondo me è una caramella rosa sbagliato questa è la 12 è la più grande del momento è gre bobo non è l'ale grande casellina numero 13 questa presumo che sia una caramellina rosa blu casellina numero 14 quindi questa è rosa quindi questa è rosa andiamo con la casellina numero 15 che sta qui sopra adesso andiamo con la casellina numero 15 questi sono buoni secondo me questo è il più buono questo mi piace troppo con questa bellissima regna quindi adesso abbiamo il 17 il 18 e poi in altri le continuiamo ad aprire domani concludiamo con la 18 che secondo me è un mini babbo notale ok per questa sera è andato ho finito quasi tutto il calendario ma raga era inutile fare 24 ore quindi adesso io vado a dormire e noi ci vediamo tra un paio di ore giusto tra 4 a 5 ore con l'ultimo post e quindi concludiamo questo video quindi posso dire per me buonanotte ma noi ci vediamo tra poco buongiorno eccoci qua per concludere questo video fuori c'è il dolore universale è sabato 21 dicembre sono le 6.34 quindi siamo proprio in orario eccolo qui vi faccio vedere però ovviamente scritto ieri ci siamo fermate alla casella numero 18 quindi dobbiamo aprire la 19 abbiamo la casella numero 20 un altro mini babbo notale oggi è 21 abbiamo la casella numero 21 quindi la di oggi ok la caramella questo c'è tipo l'oreo ma avviciniamo la 22 questa è solamente una caramella rosa ultime due caselle 23 e 24 ovviamente la 24 è quella più grande vediamo un po' un mammo natale grande calendario ho aperto tutto vi faccio un po' il quadro della situazione lei sinceramente non mi ha fatto tanto impazzire infatti per questo ho deciso di non fare 24 ore perché altrimenti non mi si alzava per niente voi mi conoscete e è una cosa fallo con quello degli M&M's che c'erano le persone grandi c'erano le sneakers grande il Mars il bounty se è vero se è diverso lo trovate sul canale è stato uno dei primi video natalizie che è uscito però ragazzi dico io visto che la milk fa tantissima tantissimi tipi diversi di cioccolata io non vi dico che era il 24 volevo trovare una mini barretta però fatemi trovare una mini barretta che mi fa calamello cioè non lo so me c'è tutto cioccolato uguale un po' come la Kinder ma vabbè io spero che questo video vi sia piaciuto e se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un pollice in su e noi ci vediamo nel prossimo video ciao